Ma crediamo che questa amicizia che viene da così lontano, pur essendo evidente, ci costringe a una disciplina dell'amicizia, quella di parlarsi spesso e di agire molto insieme. Montaigne, dopo aver scritto i saggi, è venuto nel vostro paese nel 1581 e diceva, e voglio finire applicando questa bella formula, definiamo cos'è l'amicizia tra di noi, perché lui, perché sono io. Questo trattato del Quirinale è un po' questo, perché è lui, perché sono io, lo possiamo firmare solo noi, perché c'è una forma evidente, ineffabile, ma che diventa più esplicita e la dobbiamo rendere ancora più forte ed è questa l'amicizia fraterna che ci lega. Grazie Presidente, grazie per tutto quello che ci rimane da fare. Grazie.